In centro a Ravenna scompariranno nel giro di poco i manufatti in cemento. Al posto dei blocchi circolari collocati alla fine dell'estate 2017 dopo gli attacchi terroristici in diverse città europee, arriveranno 37 nuove fioriere realizzate in marmo rosso Verona. L'obiettivo del Comune, che ne ha acquistate in eccesso valutando di utilizzarle anche sui Lidi, è quello di rendere più sicure le strade riducendo la sezione libera della carreggiata e creando percorsi obbligati e sistemi di rallentamento della velocità dei veicoli. I punti coinvolti sono Piazza Arcivescovado, Via Raul Gardini, Piazza Einaudi, Via Salara, Piazzetta Gandhi, Via 4 Novembre, Via Matteotti, Via Cavour. L'obiettivo del progetto è anche estetico, visto che le fioriere non sono mai state troppo gradite ai Ravennati, tantomeno ai negozianti. La scelta delle fioriere è accompagnata anche dalla decisione di non installare, nei 12 accessi al centro storico, i pilomat, dissuasori immobili a scomparsa a protezione delle aree pedonali. Ma l'idea di progettare due varchi con pilomat resta valida per l'incrocio tra Via di Roma e Via Diaz e per quello di Piazzetta Gandhi, tra Via Baracca e Via Cavour.